Salve a tutti ragazzi, Marco Casario qui, benvenuti a questo nuovo video. Anche i Rockefeller vogliono entrare nel mondo delle criptovalute, quello che hanno annunciato proprio qualche ora fa, circa 24 ore fa. C'è però da fare una distinzione, bisogna fare un attimo un chiarimento. Perché? Perché abbiamo annunciato di George Soros proprio nel video di ieri, alla fine della settimana scorsa, ha detto di voler entrare per far trading sulle mercato delle criptovalute, quindi l'interesse di Soros e del suo gruppo era quello di investire, di speculare, usiamo questa parola, sul mercato delle criptovalute. Per quanto riguarda invece i Rockefeller, quello che vogliono fare è investire sui progetti inerenti alle criptovalute. Infatti c'è la loro capital firm, il capitale di investimento, l'azienda che investe su società, che ha stretto una collaborazione con CoinFound, che è l'azienda che, tanto per intenderci, ha fatto già svariati progetti in questo ambito, a Kik, che è un messaging system, che ha alzato qualcosa come, mi sembra, 100 milioni ha raccolto l'ICO, l'initial coin offer, quindi è un'azienda che in questo mercato c'è, quindi c'è una collaborazione del Venture Capital di Rockefeller con CoinFound, appunto per investire sul mercato delle criptovalute. Ragazzi, che cosa vuol dire? Vuol dire che non necessariamente i Rockefeller porteranno i propri investimenti investendo, facendo trading sul mercato, forse succederà anche questo, ma quello che ci stanno dicendo è che hanno intenzione di investire sul mercato perché credono in questo mercato. Andando a leggere alcuni articoli, ragazzi, qua ne prendo uno su tutti, ma potete andare a leggere quello che preferite, è che appunto Venrock, che è l'Official Venture Capital Firm della famiglia dei Rockefeller, sta appunto creando questa partecipazione con CoinFound, e ci sono un paio di cose su cui voglio farvi riflettere, un paio di frasi che mi sono piaciute molto, per farvi capire proprio la differenza di approccio che vogliono avere i Rockefeller sul mercato delle criptovalute rispetto all'approccio che ha avuto Soros e anche i Rothschild, perché adesso abbiamo tre big del trading, tre veramente famiglie tra le più potenti nel mondo. Ragazzi, i Rockefeller sono probabilmente la famiglia più ricca, più influente sul mercato americano, e una di quelle, delle maggiori a livello mondiale, i Rothschild, nemmeno a dirlo, e poi c'è Soros con i suoi miliardi, i suoi 26 miliardi di investimento dietro alla sua società azienda. Quindi parliamo di nomi veramente grandi, che stanno mostrando interesse in questo mercato, i Rothschild a dicembre avevano detto di essere entrati sul mercato, di aver cominciato a fare acquisti, e vedete come niente sembra essere lasciato al caso. A dicembre lo Shield e probabilmente anche altri grandi squali, e poi Soros che dichiara a gennaio che il mercato delle criptovalute e Bitcoin è una bolla che sta esplodendo e porta il mercato ancora più giù. Poi Soros con la sua azienda di investimento, con il suo hedge fund, che dice di voler entrare a far trading sul mercato delle criptovalute, adesso i Rockefeller, e mi chiedevo chi manca? Manca Warren Buffett, che mi sembra che per adesso è ancora l'unico che rimane coerente alle sue idee, lui ha detto che non investirà mai un centesimo sul mercato delle criptovalute, staremo a vedere se cambierà idea, però quello che stavo dicendo è che i Rockefeller fanno questa dichiarazione di voler entrare, di voler investire sul mercato, non far trading, investire, e qui la differenza, sui progetti nell'ecosistema delle criptovalute, infatti guardate c'era questa frase che mi aveva colpito molto, che vado qui a leggervi, che il Pacman, che è appunto il David Pacman, che non è Pacman ma è il partner di Vanrock, ha detto al Fortune che è inutile concentrarsi sul prezzo e sull'oscillazione giornaliera, settimanale, mensile di una currency in particolare, perché non è quello che faranno loro, loro si concentreranno sul lungo termine e non guarderanno il breve medio termine. Beh, quante volte ci diciamo che su questo mercato, se ci vogliamo stare, se volete esserci di investire, non potete concentrarvi e focalizzarvi su quello che succede, che è successo nell'ultimo mese, negli ultimi due mesi, ragazzi non vi dimenticate che Bitcoin è qui dal 2009, Bitcoin per arrivare a 1000 dollari da quando è partito, quindi ci ha messo praticamente otto anni, dal 2009 al 2017, nove anni per arrivare a 1000 dollari, abbiamo dovuto aspettare così tanto per vederlo arrivare a quelle cifre, quindi non ci si può in un mercato così volatile concentrare sulle oscillazioni settimanali o mensili, bisogna avere una visione, se si crede nella tecnologia, ed è qui di nuovo, quante volte vi dico, se volete stare nel mondo delle criptovalute, dovete pensare che sono tecnologia, che state investendo in tecnologia, dovete valutare i progetti secondo la tecnologia che c'è dietro e che cosa stanno apportando e che cosa stanno facendo dal punto di vista tecnologico. Quindi ragazzi, questa affermazione è un'affermazione molto interessante, anche quella subito sotto dopo, che dice, siamo investitori di pazienti di lungo termine, ci stiamo domandando che cosa succederà nei prossimi 5 o 10 anni, questa è la finestra temporale di ragionamento per questi investitori. E quindi ragazzi, potete continuare poi a leggere l'articolo, molto interessante, però volevo precisare questa cosa, Sì, anche i Rockefeller hanno detto di entrare sul mercato, ma lo stanno dicendo, stanno avendo un approccio diverso, un approccio di investimento di medio e lungo termine, un approccio di investimento nei progetti, e non di speculazione e di trading di breve o medio termine, anche fosse lungo termine sul mercato, ma di investimento. Queste sono notizie positive, a dirla tutta ovviamente, da un certo punto di vista, meno positiva probabilmente la notizia di Soros, meno positiva la notizia della famiglia Rothschild, che è entrata sul mercato, ma invece un venture capital firm, un'azienda di investimenti che investe sui progetti, questa sì che è una bella notizia, questa è una notizia che mi piace, queste dichiarazioni che vi ho appena letto, sono dichiarazioni che mi piacciono, sappiate che i Rockefeller si sono arricchiti in America ad inizio secolo con il petrolio, e poi hanno ovviamente crescendo, hanno differenziato i loro business, e in particolare questa Venrock, questo venture capital firm, è sul mercato da, mi sembra, gli anni 70, quindi ha cavalcato per molto tempo sul mercato degli investimenti, ha investito in tante società, anche società tecnologiche. Staremo a vedere che cosa succederà, oggi portiamoci a casa questa buona notizia, ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate voi, lasciatemi un commento, mi avete lasciato tantissimi commenti su Soros, ho visto che statisticamente i commenti non sono stati molto positivi come accettazione di questa notizia, e in particolare nei riguardi di Soros come persona, fatemi sapere, fateci sapere a questa enorme community che ormai siamo, che cosa ne pensate invece dei Rockefeller e di questa loro dichiarazione. Ragazzi, noi ci vediamo prestissimo per un nuovo aggiornamento sul mercato delle criptovalute, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, fate clic su iscriviti per rimanere sempre aggiornati, almeno un video al giorno è quello che vi prometto se rimanete qua sul mio canale. Noi ci vediamo prestissimo, grazie mille per l'attenzione e come al solito buon trading a tutti. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!